Cassina è un punto di riferimento nella storia del design fondata nel 1927 negli anni ha continuato ad ingrandirsi ad evolversi e collaborare con i più grandi architetti a livello internazionale ed è presente nei più grandi musei del mondo, in tutti i libri di design, sono i prodotti e sono ovunque. Tre parole che descrivono la collezione 2015 possono essere poesia perché tutti gli oggetti provocano una reazione poetica, reazione poétique come diceva Le Corbusier, natura per i nuovi materiali, nuovi materiali che hanno un rispetto nei confronti della natura e storia perché la collezione Cassini Maestri è sicuramente sempre importante nell'ambito della produzione dei cassini. Se la collezione Le Corbusier Genere Perian fosse un libro sarebbe sicuramente un libro di Italo Calvino perché leggeri classici, perché ogni libro, ogni libro classico è un libro che ogni volta che viene letto ha qualcosa di nuovo da raccontare e sicuramente tutti gli arredi della collezione Le Corbusier Genere Perian sono dei classici che sono rimasti nella storia del design. Tra i nuovi prodotti 2015 vi è la collezione di accessori di Haim Ayon. Se questa collezione fosse un suono sicuramente ricondurrebbe al cinquettino degli uccellini perché Haim Ayon si è ispirato proprio alla natura, alla natura e all'albero paulogna che era presente in Villa Le Lac di Le Corbusier. Quindi un omaggio alla poesia dell'albero della Villa di Le Corbusier. Se la Cab Lounge di Mario Bellini fosse un drink sarebbe sicuramente un buon vino. Un buon vino che negli anni migliora. La Cab Lounge è una declinazione della Cab disegnata nel 1977 da Mario Bellini. Una nuova proposta che ricorda e comunque ripropone l'eleganza sartoriale del classico modello Cab. I modelli di Cassina sono delle icone, sono prodotti qualitativamente di alto livello. Sono prodotti che si possono lasciare ai propri figli perché sono veramente dei punti fondamentali della storia del design. Quindi sarebbe molto bello potersi circondare di questi oggetti. Grazie a tutti.